Studenti a Venezia, trovare casa è un'impresa. Gli studenti universitari e veneziani si amano o si odiano e trovare uno spazio per dormire è spesso un'impresa, per non parlare dei costi di una stanza e del contratto che non c'è. In compenso, le università veneziane sono di buona qualità e la città offre molte sollecitazioni culturali. Sono i dati emersi dal sondaggio condotto da un gruppo di giovani della Casa Studentesca Santa Fosca, che hanno intervistato gli studenti degli Atenei Cittadini. I ragazzi che abitano in affitto pagano fra 200 e 300 euro al mese a Venezia e fra i 150 e i 250 euro a Mestre. Il 45% di loro non ha un contratto d'affitto, ma solo un accordo verbale. L'alloggio si trova per passaparola nel 50% dei casi, ma sempre più spesso anche via Internet.